Benvenuti a questo episodio speciale sulla vita e i successi di Django Edwards, un artista straordinario che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della comicità. Noi siamo testimoni della sua grandezza, abbiamo avuto la fortuna per qualche anno di frequentarlo, ma il suo genio è per noi ancora un vero mistero. Mettiti comodo perché oggi ti parlo di un personaggio pazzesco. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. Insieme a DivaG siamo un duo comico e in questo canale, se sei appena arrivato, sappi che parliamo di comicità, della sua storia e delle sue tecniche, ma anche i suoi segreti. Per questo ti consiglio di iscriverti e di azionare la campanella. Siamo inoltre gli organizzatori del Fink Comedy Festival, sì, il famoso festival della comicità muta. E' giunto un momento molto importante questa sera perché abbiamo l'onore di ospitare forse uno dei più grandi clown della storia di questo secolo, insomma del novecento, un clown che ha fatto storia, ecco, Django Edwards. La sua avventura inizia a Detroit, dove da giovane Django scopre la sua passione per l'arte e intraprende il cammino che lo porterà a diventare uno dei clown più influenti del suo tempo. La scena artistica di Detroit gli offre un terreno fertile per sviluppare il suo talento eclettico e ben presto Django parte per l'Europa alla ricerca di nuove sfide e opportunità. Il suo stile unico e rivoluzionario si fa strada attraverso spettacoli innovativi che lo rendono un pioniere dell'arte clownesca. E' in Europa che Django Edwards fa la sua vera rivoluzione. Sì, arrivò in Spagna dove conquistò il cuore del pubblico con il suo spirito ribelle e il modo unico di rompere le convenzioni. La sua comicità sfacciata e riverente colpisce nel segno, diventando un fenomeno culturale. Divenne un artista di strada a Londra e lì formò gruppi comici itineranti e a partire dal 75 divenne noto come uno dei principali organizzatori e artisti dell'International Festival of Fools, un festival cittadino di spettacoli di clown ad Amsterdam. Guardare questi estratti di spettacoli indimenticabili dove Django interagisce con il pubblico ti fa capire come creava i momenti di risate, stupore e riflessione. Le sue performance trasgressive, intrise di satire e critica sociale, sono una testimonianza del suo impegno a sfidare le norme convenzionali. Ora parliamo di alcuni dei momenti più iconici delle performance di Django Edwards. uno dei suoi marchi di fabbrica è l'uso dell'assurdo e delle situazioni improbabili che lo hanno reso un maestro della comicità visiva e fisica. Immaginatevi essere lì davanti al suo famoso numero con il tuffo dentro al bicchiere o le esileranti interazioni con il pubblico che hanno fatto sì che ogni spettacolo fosse un'esperienza unica. Django Edwards è riuscito a catturare l'attenzione di tutti, indipendente dalle loro età o provenienza. l'attenzione di tutti. Grazie a 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 tutti.